Buon pomeriggio a tutti, io sono Marta Pluda, mezzo soprano, ho avuto il piacere e l'onore di partecipare al concerto per ricordare Giacinto Prandelli per ben due volte, di cui l'ultima è stata nella versione online dello scorsa primavera, per le motivazioni che tutti sappiamo. Volevo unirmi anch'io con un breve messaggio di auguri, che sia un Natale quanto più possibile sereno, in buona salute e in compagnia delle persone a cui veramente vogliamo bene, sperando veramente in un anno nuovo migliore di questo, sembra retorico dirlo ma insomma è difficile andare peggio di così e di poterci abbracciare prestissimo tutti insieme e di goderci soprattutto della buona musica dal vivo e di poterci emozionare tutti insieme. Un abbraccio. Grazie. 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 Grazie.